A fare domande, se fosse messo di fronte alla scelta Grillo o Bersani chi sceglierebbe? No, non cado in questo trappo, in questo trappo. Beh come no, come no. Io te lo dirò, nel tempo in cui andremo a votare... In questo momento, in questo momento, distinto, distinto, se dovesse scegliere tra Grillo e Bersani chi sceglierebbe, distinto oggi? Ma a chi lo chiede? A lei? Ancora, che tormentone. In Edicola vi racconteremo il viaggio tra i grillini in Campania, in una regione dove è difficile attecchire per un movimento che si forma soprattutto su web. E poi vi racconteremo anche l'effetto Grillo sul referendum in Valle d'Aossa che ha bloccato la costruzione del ricassificatore. È la vostra sconfitta, siete dei falliti anche voi! Giornalisti che avevano un decoro, gente con tre lauree che andavano a Kabul! Adesso li vedi che cercano... Dov'è il pepino di Capri che sono rovinato? Questo è la vostra sconfitta, siete dei falliti anche voi!